A tutte le situazioni che possono fare qualcosa, al Papa, al Vescovo, al Cardinale, che qualcuno che può dire, signore, portiamo questi bambini in Italia, non facciamole morire, perché fa morire i bambini innocenti. Però non possono venire perché non hanno i documenti. Non hanno i documenti, se avevano i documenti già stavano in Italia. È una cosa molto semplice. Questo l'appello di Claudio Magri, originario del Valdarnoma, che per 12 anni ha vissuto in Venezuela, proprio nel paese sudamericano, che sta vivendo una delle pagine più buie della sua storia, ancora vivono in condizioni disperate la sua compagna e le sue due bambine, una di 10 anni e l'altra di appena uno. Questi sono due bambini innocenti, che non hanno fatto niente di rimanere a nessuno. Non hanno nemmeno da mangiare? Non hanno niente da mangiare, e quello mi sto sentendo male, veramente. Pensa alla bambina, una quasi un anno, e ancora prende l'altro. Non è alimento che tiene la bambina di un anno. La mia compagna pesa 34 kg. Lo scorso anno il Consolato italiano aveva disposto per lui il rimpatrio per motivi di sicurezza, e da lì è iniziato il suo calvario, fatto di appelli per poter portare in Italia la sua famiglia. Il governo italiano mi ha sistemato in una residenza, e sono stato tre mesi sotto protezione del Consolato italiano, e il primo volo possibile e immaginabile mi hanno rimpatriato in Italia. Invece la sua compagna e le sue figlie sono rimaste in Venezuela? Purtroppo sono già quattro anni che abbiamo fatto richiesta, tutti i documenti, il governo venezolano non rilascia nessun documento, perché tu pensa che il 30% della popolazione venezolana è scappata, sia in Brasile, in Cile, in Uruguay, Paraguay, Colombia. Come si vive oggi? Male, perché io sono insieme alla mia compagna, che là ora sono senza benzina, senza alimenti, senza medicina, e stanno veramente morendo di fame. Claudio Magri e suoi familiari restano così, in attesa di ottenere i documenti necessari per l'espatrio. Da oltre un anno sta contattando Farnesina, Consolato, autorità locali e venezuelane, ma nulla sembra sbloccarsi, e così giorno dopo giorno cresce la preoccupazione. Sua moglie cosa le ha chiesto? Di venire via, ma non per lei, per le bambine. Scusate, non ce la faccio più.